A volte serve tempo per accettare il fatto che non ci siano sopravvissuti. Non è possibile. Le mie sentite condoglianze per suo figlio. Ho sempre saputo che fosse omosessuale, ma non mi è mai importato. Aspettavano un bambino. La madre surrogata non era sull'aereo. Il bambino è vivo. I ragazzi volevano che lei restasse anonima. Ma noi non possiamo abbandonare questo bambino. Metà sangue di Emanuel? Qualcosa conta. Rita Vandevelle. Vivi a Gon, è una bambina di nove anni. Vende biciclette. È tutto quello che sai su di lei. Buonasera, sono il padre di Emanuel. Se ne vada subito. No, io sono come lei. Sono una vittima collaterale. Come me? Non credo, no. Non come me. No, no, voglio dire... Dovevo ricevere la metà in contanti nel secondo trimestre. E il resto a parto avvenuto. Invece mi ritrovo con questo e non posso sbarazzarmene. Un bel regalo. C'è il signore dell'altro giorno. Non ci credo. Come glielo devo dire? Volevo solo sapere come sta il bebè. Sto prendendo il posto di mio figlio. Non era pesante come lei. Vuole sentire il cuore? Attraverso questa bambina troveremo un legame con i nostri figli. Mi ricordo le notti con una bambina piccola. L'avrei buttata dalla finestra. Bisogna andare avanti, papà. È la mia piccola. Non mi arrenderò. Le cose stanno così. D走了. Mi ricordo le notti con i nostri figli. Mi ricordo le notti con i nostri figli.